Nessun gruppo criminale è organizzato che pilotasse i danneggiamenti e gli atti vandalici in città. L'arresto di Frazzitta, lo spaccatore seriale, ridimensiona di molto l'allarme che si era innescato dopo i recenti fatti che avevano visto coinvolte diverse attività commerciali. L'uomo al più delle volte è agito da solo, a volte con un partner, ma comunque semplicemente spinto dalla possibilità di racimolare qualche soldo facile. Questo almeno è quello che emerge dalle prime ricostruzioni all'indomani dell'arresto. Un ladro seriale, dedito spesso anche alla devastazione delle attività, come conferma Tito Cicero, primo dirigente della Polizia di Stato. Un ladro seriale che utilizzava delle modalità assolutamente inquietanti, tali da fare crescere un allarme sociale naturalmente giustificato vedendo quello che avveniva e i posti che colpiva in pieno centro a Gela. Certo, alla luce di quelle che sono state le indagini, la vicenda si può ridimensionare ad un singolo soggetto. L'odierno arrestato, possiamo dire che non faceva parte di una vera e propria squadra, agiva per lo più individualmente. In qualche occasione è stato collaborato da un correo e su questi le indagini stanno andando avanti e cercheremo di chiarire eventuali altri risvolti nei reati commessi. Per lo più si appropriava di tabacchi per i gratte e vinci, aveva una vera e propria passione. Alcune centinaia già utilizzate sono state trovate durante la perquisizione. Un'indagine relativamente veloce è considerata l'assenza di flagranza in reato e nonostante le tante immagini della videosorveglianza raccolte sul luogo dei furti. Non essendo stato arrestato in flagranza, il frazzitta è stato oggetto di un'indagine che ha richiesto dei tempi per così dire fisiologici, quindi il tempo di raccogliere le tracce, di condensarle in appropriate informative, di rassegnarle all'autorità giudiziaria che in tempi veramente brevi ha fatto partire la richiesta di custodia cautelare in carcere che è stata emessa conseguentemente dal GIP. Sette i capi di imputazione contestati al 22enne, ma non si esclude che possa essersi reso responsabile di altri assalti, compreso ad esempio quello alla sede della Croce Rossa, assalita probabilmente per errore. Secondo gli inquirenti infatti l'obiettivo era in realtà un'edicola lì vicino, scassinata qualche giorno dopo. Stiamo verificando anche in questo senso. Ci sono altri assalti che sono al baio delle nostre indagini. Stiamo verificando anche il noto fatto che ha riguardato la Croce Rossa italiana alla luce del fatto che la sede si trova molto vicina a un'edicola poi successivamente depredata. Quindi vedremo se anche questi eventi siano in qualche modo riconducibili all'indagato di oggi o non potendosi escludere che siano opera di altri malviventi. In questo periodo si è parlato tanto di un possibile disegno criminoso volto a destabilizzare la comunità, atti vandalici pilotati, forse questo smonta un po' tutte queste teorie. Dal nostro punto di vista abbiamo avuto a che fare con un giovane sicuramente afflitto da disagio. Non direi che l'azione di questi mesi sia ascrivibile a un gruppo organizzato. Almeno al momento questo non emerge dagli accertamenti svolti. Grazie.